E' tempo di bilanci annuali anche per le onlus e le loro attività, supporto dei più deboli e di chi è in difficoltà. L'Africa chiama l'associazione di Fano conosciuta nel mondo per occuparsi dei problemi atavici del continente nero, malnutrizione, sostegno a donne e bambini, scolarizzazione e carenze idriche. In ben tre stati africani chiude un 2018 ricco di tante soddisfazioni e di progettualità. In particolare nel 2018 abbiamo avviato tre nuovi progetti che porteremo avanti anche nel 2019. In Kenya è il progetto semi di giustizia per avviare degli orti urbani e degli orti didattici alla periferia di Nairobi, quindi proprio nelle baraccopoli. In Tanzania abbiamo avviato un nuovo progetto che si chiama Oltre le barriere per permettere a bambini con disabilità di accedere a scuola e che quindi ha fatto tutto un lavoro di formazione sugli insegnanti e anche proprio abbattuto fisicamente delle barriere architettoniche in diverse scuole appunto di ringa in Tanzania. Mentre in Zambia abbiamo avviato un progetto che si chiama Stop the Violence. È un progetto che contrasta appunto la violenza di genere che purtroppo è diffusissima soprattutto nelle zone periferiche della capitale dove tantissime donne appunto subiscono violenza. Un bilancio senz'altro positivo quindi quello presentato a soci e sostenitori per tutto quello che i vulcanici fondatori come Italo Nannini non sono mai stanchi di mettere in campo e di promuovere creando anche un indotto e la possibilità per ognuno di noi di poter essere una componente attiva in questo processo anche senza mettere piede negli stati supportati dall'associazione ma semplicemente sostenendo l'Africa Chiama nelle sue diverse e forme possibili. Per dare giusto qualche numero 70 sono i dipendenti locali che lavorano nei progetti e ben 10 sono i volontari che quest'anno sono partiti che hanno voluto vivere un'esperienza personale e vedere con i propri occhi quanto l'Africa Chiama sta facendo in questi paesi. Nonostante le difficoltà però tutti i giorni siamo al fianco di queste popolazioni a fianco dei più deboli e dei più bisognosi. Uno dei modi concreti per sostenere l'associazione è appunto facendo la tessera Amico perché si è aperta col nuovo anno la campagna di tesseramenti ci sono diverse tipologie di tessere che si possono effettuare ed è un modo concreto per aiutare i nostri bambini più di 21.000 nei tre paesi africani per un anno, un modo concreto per sostenere appunto i progetti e le nostre famiglie.